A Mosciac e a Meccani, così è stata denominata l'iniziativa in programma domani pomeriggio. Michele Belfiore, che cosa vuole essere questo appuntamento? Questo appuntamento non vuole essere altro che una riunione, una passeggiata appunto come è stata nominata e come è stata intitolata. Una passeggiata tra amici. Ad oggi purtroppo non ho usato l'SMS, ma ho usato Facebook come tramite per comunicare a questi miei amici o comunque a cittadini di Sciac o anche dei dintorni per vederci in piazza con il proprio cane o il proprio gatto o quel che sia. Non vogliamo assolutamente sostituire le associazioni che si occupano giornalmente e realmente sul campo degli animali in difesa e degli animali che hanno bisogno. Il nostro è semplicemente un segnale per dire noi amiamo Sciac, noi amiamo gli animali, non siamo tutti uguali come ci hanno etichettato. Purtroppo la storia ci insegna che per colpa di uno pagano tutti, quindi per colpa di chi ha fatto questo gesto, non voglio usare altri aggettivi, quindi lo chiamerò gesto, per colpa di questo che ha fatto questo gesto ne stiamo pagando tutti le conseguenze, essendo presi per incivili, essendo presi per chi non ama gli animali. E purtroppo, ripeto, la storia ci insegna questo e il popolo ne paga le conseguenze. E' un segnale quindi che si vuole dare e che in realtà a Sciac, anche a Sciac ci sono tante persone che amano gli animali. Assolutamente sì, siamo noi che siamo stati accusati, io mi metto in prima persona perché mi sento un cittadino con la C maiuscola di Sciac e una persona che ama gli animali. Non sto qui a dire cosa ho fatto nel mio passato, cosa farò per gli animali, lo farò nel mio silenzio se l'ho fatto o se non l'ho fatto. La passeggiata col cane sicuramente non dimostra che amiamo gli animali perché sarebbe facile dire vabbè è il tuo cane e porti il tuo cane a spasso. Però, ripeto, è semplicemente un segnale, un segnale per dire noi ci siamo, noi amiamo gli animali. Poi, ripeto, chi si occupa realmente degli animali giornalmente indifesi è tutt'altra storia. Non vogliamo sostituire assolutamente chi tanto di cappello fa questo lavoro o con dedizione, gratuitamente e con il cuore. Voi avete lanciato questa iniziativa su Facebook, quindi che tipo di adesioni ci sono state? Cioè si spera che realmente la città faccia vedere di che pasta siamo fatti, possiamo dire così? E questo è il mio augurio, potremmo essere dieci, potremmo essere mille persone, questo non lo so. Le adesioni sono state tante, devo dire, devo essere sincero anche di gente che ha scritto non ho un animale ma sarò in piazza. Questo significa amo gli animali, purtroppo non tutti possiamo tenere un animale a casa, chi vive in appartamento, dipende da situazioni. Ma nulla toglie chi ama gli animali, nulla toglie chi ama Sciacca e sarà in piazza con noi. Sono stati veramente tanti, poi rivedo, non so quanto saremo, spero, mi auguro che saremmo in tanti, anzi questo è un invito che faccio ad esserci. È semplicemente una passeggiata, come poteva essere un altro giorno, in questa occasione invito, facciamoci una passeggiata in piazza sabato alle 3.